RUYA Ho letto che alcuni studiosi stimano il confucianesimo non come una religione, ma come una scuola di pensiero che in Cina è nota come RUYA, scuola di letterati, mentre i templi in cui si svolgono i riti si chiamano WEMYAO, templi della letteratura. Al contrario delle religioni tradizionali che hanno creato una potente organizzazione ecclesiastica, il confucianesimo non ha sacerdoti. Le formule rituali degli officianti rivolgono le loro formule tradizionali a una forza indefinibile, il Tao, che sostiene il mondo. In passato le preghiere del confucianesimo non riguardavano comportamenti spirituali, ma le necessità materiali della società e dell'imperatore, dei dignitari di corte e dopo, nonostante il bando ufficiale del suo culto, gli ideali della rivoluzione comunista. «Perché? Perché è dei grandi condottieri spirituali superare le religioni e giungere nell'intimo degli individui. Non è imboccandolo con una religione che il popolo cresce, ma accendendo in ognuno la sua religione, quella della coscienza». Grazie. 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 Grazie.